Game Freak, azienda produttrice di videogiochi meglio nata per aver creato Pokémon. Parto vi trova dalla mente del fondatore Satoshi Tajiri, che voleva ricreare le esperienze che aveva vissuto da bambino tramite il medium del videogioco. Impresa più che riuscita, tanto che Pokémon ad oggi conta centinaia di milioni di unità vendute nel corso di 27 anni. Anche grazie a The Pokémon Company, nata da una joint venture di Creatures Nintendo Game Freak, che ad oggi genera fatturati da capogiro. E tanto più cresce fatturato, tanto più sembra peggiorare la qualità dei giochi. Ma dovrebbe essere il contrario. Come può peggiorare la qualità di un prodotto se gli introiti sono più alti? No, Girella, vai via, fermati, fermati. Il calo di qualità è stato fatto notare dai fan più agguerriti e da chi vorrebbe semplicemente che il suo brand preferito di quando era bambino fosse bello come una volta. Dai non piangere, bimbo uomo. Ma perché nonostante tutte le lamentele non si riesce a mettere una patch, capita? Per bloccare da più sempre dilagante perdita di qualità. La risposta più ovvia è soldi, 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 ovvio, il vil denaro. Pubblicare quanto più velocemente possibile nuovi giochi in modo da vendere e avere più soldi per fare altri giochi e avere ancora più soldi, soldi, soldi. Un'altra scusa è il tempo, perché con uno studio che conta 170 dipendenti e bisogna vedere quanti effettivamente programmatori e quanti capaci. In tre anni scarsi non puoi sviluppare un videogioco, o meglio, una nuova generazione e in mezzo metterci un altro gioco come ad esempio è successo con Leggende Pokemon. Oppure incompetenza nel lavorare con il 3D, che sembra essere la preferita dai fan quando si parla di Game Freak. E vedendo quello che è successo con il passaggio dal 2D direi che è quasi certo. Il fatto è che tutte queste lamentele hanno raggiunto le orecchie dei dirigenti di Game Freak e the Pokemon Company e sembra che forse finalmente abbiano deciso di fare qualcosa. È stata rilasciata un'intervista da Otsunomiya che dichiara che hanno sempre rispettato una certa cadenza e cercato di introdurre novità nei loro giochi e vogliono assicurarsi che anche la qualità sia una costante in futuro. È grazie, direi, dopo quello che è successo con Scarlatta e Violetto. Ma come potrebbero ovviare a questo problema? Assumendo più gente? Appaltando parte del lavoro ad una ditta esterna? Soluzioni plausibili, ma per come è strutturata la mentalità giapponese è improbabile. Ma non è impossibile se si vuole evitare di ripetere il disastro di Scarlatta e Violetto. Non aspettatevi miglioramenti della grafica dei DLC. Quanto meno aspettatevi che non ci siano glitch grafici con le luci che apparivano e sparivano in base al comando selezionato. Ma aspettatevi ancora il pop-in degli oggetti come alberi, cespugli e pokemon dato che dovrebbero riscrivere il codice alla base per ovviare al problema. Ma non solo per quello, sto parlando di te mare infinitamente grande che viene riprodotto anche quando siamo dentro di una grotta. Ma perché? Però il punto è che finalmente hanno ascoltato la voce insistente del popolo e forse metteranno davvero una pezza alle loro produzioni future per farle essere migliori. E dato che è stata annunciata una collaborazione con Private Division per un altro gioco, è probabile che l'outsourcing per pokemon sia una realtà e non utopia. E anche perché ricordiamo che hanno delegato a... Mirka... il remake di Diamante e Perla, che sembrava più un tutorial su come fare copia e incolla di un codice già scritto ma ormai è fatta. E non dico di sperarci perché sarebbe come ricevere una coltellata ogni volta che le nostre aspettative vengono deluse. Non resta solo che aspettare e vedere magari se con la nuova console Nintendo per la decima generazione e le uscite future abbiano intenzione di cambiare le carte in tavola e magari assumere gente che sappia lavorare con le nuove tecnologie. Ma Andre Link, io mi sono divertito con Scarlatta e Violetto. Sì, ma il lato tecnico fa schifo.